Momenti di paura in pieno centro storico di Arezzo per il crollo di un cornicione. È successo ieri sera attorno alle 20 in via Margheritone. Da un palazzo di quattro piani, accanto al Sacrario dei Caduti e di fronte al Museo Archeologico di Arezzo, all'improvviso si è staccato un pezzo del cornicione del tetto. I detriti sono così caduti giù con forza facendo un volo di molti metri. Insomma, una tragedia sfiorata. Fortunatamente in quel momento non c'erano passanti e nessuna persona è così rimasta coinvolta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La zona è stata poi transennata su entrambi i lati dai pompieri.